In piccolo e recente stabile a Galliate, Artecasa propone in vendita questo interessante appartamento al secondo piano con ascensore. L'ingresso è living in soggiorno. La cucina è abitabile ed entrambi affacciano sul terrazzo coperto. Un comodo disimpegno che ospita un armadio ripostiglio conduce alle due camere, al bagno finestrato e ad un secondo balcone. Sono molti plus di questa proposta. Serramenti in legno con vetrocamera e zanzariere, porta blindata, videocitofono, climatizzazione e impianto d'allarme perimetrico e volumetrico con combinatore telefonico. Il riscaldamento è autonomo, inoltre grande autorimessa comunicante con la cantina. Il fabbricato è privo di barriere architettoniche ed è adiacente a scuole, palestre, parco giochi, mezzi pubblici. Per tutte le informazioni, Artecasa immobiliare. Artecasa, l'arte di vendere case.